Ciao a tutti e benvenuti alle parole del vino. Durante questi appuntamenti spiegherò le parole che servono per spiegare un vino che troviamo in etichetta o dei termini che spesso provengono dalla lingua francese e spessissimo utilizzati durante la descrizione dei metodi di produzione, l'analisi organolettica e così via. Oggi vorrei parlarvi di tre termini che spesso sono legati tra loro e sono superiore, classico e riserva. Una premessa è doverosa. I vini che non hanno in etichetta scritto questi tre termini non sono di qualità inferiore. Non hanno dei disciplinari che prevedono queste caratteristiche che adesso andrò a spiegare. Sono delle caratteristiche di produzione determinati dai disciplinari relativi per le singole DOC e DOCG e pertanto non possono essere scritti in etichetta e non neanche devono essere dei vini che debbano rispettare queste caratteristiche del disciplinare. Quindi partiamo subito con il primo termine che è classico. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Classico, orvieto classico, classico che anticlassico. Classico significa anche storico, cioè è la zona di produzione dove è nata la DOC. è così importante alle volte che ad esempio il Chianti di O.C.G. ha due singolari separate denominazioni. Il Chianti di O.C.G. e il Chianti classico di O.C.G. La parola spiega un po' tutto perché significa che i vigneti utilizzati per creare questi vini sono posti nelle zone dove è nata la DOC. Quindi sono le aree storiche della denominazione di origine. Un altro termine che è superiore. Spesso sento dire che un vino che è superiore significa che ha una gradazione alcolica di almeno lo 0,5 rispetto allo standard di riferimento della denominazione di origine. Molti dimenticano che bisogna che il vino, anzi i vigneti, diano una resa per ettaro inferiore di almeno il 10% rispetto a quanto previsto dal disciplinare della DOP. del vino e questo è importante perché questa riduzione di raccolta diciamo del vino di resa per ettaro serve per migliorare le qualità organolettiche, le qualità, le caratteristiche del vino stesso. Terzo è riserva. Quando parliamo di riserva parliamo di invecchiamento, affinamento compreso del vino che deve essere rigorosamente fatto in contenitore di legno, quindi può essere fatto in barrique, in tonno, ma anche in botti grandi. L'importante è che sia sempre legno. La specifica è data per due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi e gli spumanti fermentati in autoclave e tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. Quindi il metodo classico. Per capirci, il metodo classico nazionale è lo stesso metodo utilizzato per la produzione dello champagne, ma il metodo champagne noir viene chiamato così solo per la produzione degli champagne, ma il metodo classico in pratica è lo stesso metodo utilizzato per il pregiato vino francese, il pregiato spumante francese. Quindi ricordiamoci questi tre termini, classico, superiore e riserva. Ci vediamo prossimamente con altri nuovi termini da imparare. Ciao a tutti. Ciao a tutti.